In position 7 Partiti Don Manzo, Mascastini numero 19 della Padernese e Cristian Manzotti numero 109 del Berlusco In position 7 Partiti Pilippo San Galaio numero 21 dei papiratori Spinea e nomini Cecchini numero 76 del San Nazario In position 7 Partiti Alessio Mannae numero 60 dei ASD Flash e Tommaso Ceccarello numero 13 HP Padova Abbiamo Alessio Mannae che ha vinto il bronzo agli europei in Padova Questa distanza 18.235 il suo tempo In position 7 Atleti entrambi del New Roller Forcia con il 119 Alessandro Fusione e con il 118 Francesco Bertolo 18.033 per il numero 119 e 18.49